...della normativa all'interno della nostra città, uno spazio... Doveva svolgersi nel mese di marzo, ma la pandemia e il lockdown avevano costretto la Visvano a rimandare le celebrazioni per il settantesimo anniversario della Fondazione. L'evento è stato fissato per domenica prossima, 4 ottobre, una giornata significativa per il mondo del dono, che prevede un momento religioso alla Rocca Malatestiana con Don Mauro Barnesi, parroco di San Cristoforo e donatore, al quale seguirà una parata nel centro storico con la banda cittadina per una tappa in piazzetta largo donatori di sangue. Poi una cerimonia alle ore 11, sempre all'interno del monumento malatestiano, durante la quale verranno consegnate le benemerenze ad 80 donatori, che in questi anni si sono distinti per la loro generosità, arrivando alle 50, 75, 100 e 125 donazioni di sangue plasma. Non potevamo, Simona, non scegliere questa data, che è il 4 ottobre, perché la giornata italiana del dono non è solo San Francesco, il nostro patrono d'Italia, e come detto una battuta, la nostra sede è in via San Francesco, quindi era una data alquanto doverosa, scontata, ma soprattutto piacevole per ringraziare le donne e gli uomini che sono unite nel mondo del dono, nel mondo della donazione di sangue. Durante la conferenza stampa questa mattina sono state presentate anche due mostre, la prima intitolata un logo per Avisfano, con i bozzetti realizzati dagli studenti degli istituti Seneca e Apolloni, che verranno elestiti dal 3 al 20 ottobre alla Mediateca Montanari. La seconda, chiamata un dono d'artista, ha visto invece la partecipazione di 45 artisti del territorio, che hanno donato una loro opera. Queste potranno essere ammirate dal 2 al 4 ottobre, nello spazio espositivo della Rocca Malatestiana, gentilmente concesso dai gestori, dopodiché verranno donate nel giorno della cerimonia alle 37 consorelle, cioè alle Avis della provincia, oltre a quella di Viterbo, gemellata con Avisfano. Inoltre, in occasione dell'anniversario, l'amministrazione comunale donerà una medaglia di riconoscimento che verrà giunta all'Abaro dell'Associazione Fanese. È una medaglia guadagnata sul campo, ha dichiarato il sindaco Seri Avis, e l'ha ottenuta con grandi risultati e importanti aiuti. Il dono è il gesto più nobile che ci sia e siamo orgogliosi di poterla consegnare. Anche lei doveva essere premiato per aver superato le 75 donazioni, purtroppo non potrà essere presente per la prima volta a una cerimonia di Avis. Sì, con grande orgoglio, perché per un donatore è un orgoglio ricevere una benemerenza di Avis. Io ho superato le 75 donazioni, sono 81, ma al di là del numero è il messaggio che si vuole trasmettere. Ahimè per la prima volta non potrò partecipare come sindaco ad un evento importante di Avis, perché il 4 San Francesco è patrono d'Italia, è la giornata del dono, e quindi giornata più azzeccata non c'è, ma dobbiamo anche dire che essendo il patrono d'Italia c'è una tradizione che le regioni portano in dono ad Assisi l'olio. E quest'anno è l'anno della regione Marche. Io sono il sindaco della terza città delle Marche, non posso non rappresentare il territorio ad Assisi il 4, quindi sarò là a rappresentare la città, ma sarà presente il vice sindaco che rappresenterà l'amministrazione e consegnerà anche fisicamente la medaglia. Nell'incontro di questa mattina il presidente Marco Savelli ha poi ribadito l'importanza della donazione, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, e ha lanciato un appello ai Fanesi. In questi giorni, infatti, nelle Marche, una sacca di plasma iperimmune donata da un paziente guarito dal Covid ha salvato una persona in terapia intensiva. Ma in Italia, ha raccontato Savelli, sono stati annullati degli interventi chirurgici proprio a causa di una carenza di sangue. San Francesco ci ha sempre detto che bisogna donare la giornata italiana del dono e i nostri concittadini devono ancora di più essere vicini alla nostra selezione in questo momento veramente importante. L'Italia è in casa, è in sofferenza di sangue in questo momento. Le Marche siamo al limite dell'autosufficienza ematica, vuol dire che le sacche di sangue bastano al limite per rispondere a tutti gli interventi chirurgici e alla domanda continua, perché abbiamo malati cronici che hanno bisogno quasi ogni giorno e comunque sia in modo periodico di sacche di sangue. Quindi siamo 60.000 abitanti, ci ricordiamo di essere a città delle Marche e ricordiamoci di essere anche nel mondo del dono. Quindi coloro che ancora non hanno pensato, ci stanno pensando, venite all'interno dei Diavis, venite al centro trasfusionale che saremo pronti per abbracciarvi. Grazie. Grazie. Grazie.